Con un gol per tempo lo Stareti si sbarazza del San Gregorio e continua a riprendere la sua corsa nel campionato di prima categoria Girone C. Poche le azioni in verità in questa giornata per lo Stareti che reclama già al dodicesimo per una traversa colpita di testa da Procopio con palla che dalla nostra postazione non riusciamo a capire se cade all'interno o all'esterno della linea di porta. Ci vuole però il 41esimo perché Procopio con un'ottima girata su imbeccata di Domenico Voci riesce a sbloccare il risultato portando in vantaggio lo Stareti. In campo si è visto un San Gregorio molto ostico, abbastanza falloso e molto ma molto spigoloso. E' uno Stareti che comunque non demorde e ha continuato a giocare nel suo solito modo cercando di portare a termine la partita vittoriosa. Ci vuole poi tutto il secondo tempo perché arriva il gol della sicurezza, il raddoppio siglato da Macri in un'azione di mischia nata da un calcio d'angolo. Quindi Stareti che riprende la corsa verso le posizioni di vertice e San Gregorio che ritorna a casa abbattuto da una buona squadra. C'è da dire ancora che in occasione del secondo gol ci sono state delle proteste vibranti e ne hanno fatto le spese. Due giocatori del San Gregorio, il numero 3 e il numero 6, che sono stati espulsi dall'arbitro in contemporanea. Quindi partita poi che ha continuato con 9 uomini soltanto e paradossalmente da quel momento in poi il San Gregorio ha giocato meglio e si è visto anche qualche volta in avanti.